Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di Demanding of Isaac After Burnless Io sono Ser, benvenuti nel mio canale The Lost? Se no, ci manca Blue Baby Magdalene Magdalene contro Delirium Speed up ce lo prendiamo Conosciamo anche già una pillola Diciamo che non parte proprio nei migliori aspici Però Possibilità di recuperare i cuori A occhio ce n'è Almeno un paio Possiamo Cerchiamo comunque di non perderli Così siamo tutti più contenti Se troviamo del danno subito Tanto meglio Ma soprattutto sappiamo che quella pillola lì È uno speed up Ok Questo per il momento quadro Qui ricordiamo che ci sono due cuori È morto da solo Tu Ricordiamoci che dobbiamo arrivare Scusate, avevo qualche stanza Più probabile Non era l'unica stanza dove potevo andare Dove potessi andare Certo Il vero è che lui Mi può dare Nine Cut Giusto Nine Life Lì Cosa si chiama? Dead Cut Scusate No, Nine Cut Non si può sentire proprio Cioè del marcio in Nine Cut Come descrizione No, a me piacerebbe Un sacco veramente Che moriste Tipo Adesso Eh, punto Cioè ma quanto rompicazzo è sta stanza No, cioè Aiutatemi a capire Lo trovate anche voi di La follia O sono solo io Cioè al primo livello Mi devi da Se non mi dai Dead Cut Ma va bene Che Shoop the Whoop In finale Il problema è che Shoop the Whoop Scala su Ma quindi c'era un'altra stanza Non l'ho vista Ma Ce la faccio What? C'è una stanza giù? Ah Ok Sì Penso Credo Bene Ci venite solo una cacca Mairite Unicorn No, si ricarica troppo lento Almeno con questo In teoria Forse il boss L'ho sciotto Qua mi tocca andarci Non mi interessa niente A meno che Se mi dava 5 centesimi Qualcosa mi potrebbe interessa Non so se farlo adesso O farlo dopo Eh, stavo dicendo Se trovo Small Rock Come veniva farlo adesso Anche perché Anche perché anche Shoop the Whoop Pesca là Quindi Aumentare il danno È buona cosa Lacrime a parte Quello è uno speed up Giusto? Se mi ricordo bene Questa è una moneta E quello è uno speed up No? No Però È Power Che male male Eh Non ho visto Cuori di fede Però ho visto una bomba Quindi No, sei campione Ok, ecco perché Non sei morto Non mi dare un HP di prego Non me lo speed up Grazie No, sempre gentile Allora Ci conviene prenderla Quella bomba Secondo me Ci conviene prenderla Sto bomba Secondo me Sperando di trovare Una tinted Abbastanza in fretta Nel livello successivo E che mi dia un cuore blu Perché altrimenti Il patto Me sa Che se lo sogniamo Se il patto Ci dà qualcosa di figo Tanto meglio Non posso far a meno Di notare Che è un altro Burning basement Della merda Questo può essere buono Senza speed up Quello l'avrei fatto Sicuramente Proprio Ma Chi è rimasto? È rimasto il tuo corpo Maledetto Una cesta Con un altro Tirzatti E vabbè Allora I tirzatti Forse Non ci Aservono Cacchie puzzose Con le cacchie puzzose Facciamo danno Merda Ok No Qui non ci entreremo A meno che Non troviamo Un sacco di soldi Improvvisamente Lì non ci possiamo Entrare Perché ancora Non lo trovo Un cuore blu Merda Questa cosa è terribile Sti ragni Sono terribili Come ne esco? Non chiedete Non lo so Non chiedete Non lo so Non so come ho fatto Per due volte Oltretutto Sento tipo Un cazzo di ninja Ma non so Come ho fatto Veramente Merda Quanta roba Scusa ma Siamo sicuri Che qua non c'è La stanza segreta Perché era Era possibile In realtà No Non abbiamo visto La stanza lì Che la voglio vedere Perché devo caricare Il show Devo up a tutti i costi Prima del boss E se ci prendo danno Sti cazzi Oh ma Un cazzo Mi cuore Grazie Ti abbiamo messo un po' Ok Non mi ricordo Ma che fai Ma che fai Ci ho provato Basta Pay to win Pay to win Vuol dire Che più paghi Più succede qualcosa Butto lì Butto lì Simpatia Non mi che riesco A spaccarti Abbastanza rapidamente Abbastanza rapidamente I fantasmini Spacco abbastanza rapidamente I fantasmini Ti posso sciogliere Quasi Oh Basta Basta però No Bene tutto Ma io un cuore L'avrei preso Orbitale E il marchio Sono riuscito a prendere Danno al cuore rosso Prima di prendere il marchio Se è giusto Mi domandavo come fosse possibile In realtà è possibile Qui lo apro Giusto Vedete che c'è Merda Non sape roba Aspetta un attimo Ho fatto una cazzata Devo fare così Usare la bibbia Prendere questo Prendere questo Prendere questo Così li abbiamo toccati tutti E siamo Bokorma Che ci piace un sacco Che è una sorta De 20-20 scherzo Quando si prendono Tre libri Di quelli che decidono Loro Perché non so Tutti i libri Quindi non mi chiedete Alcuni libri funzionano Alcuni non vanno bene Quanti di voi Avrebbero preso La bibbia satanica Però non accelero E' solo per quello Che non l'ho presa Non ti accelera le stanze La bibbia satanica Più cuori di fede O più possibilità Più possibilità Che quando droppi un cuore Diventi blu Mettiamola così Un po' articolata Ma manco se mi paghi Neanche se mi paghi Puoi scordartelo Ma figurati Cazzo Il D6 Ecco Se il T-Cross Si può fare E il più adesso E trovo abbastanza cariche Ma Lo shop C'era? Ci esisteva? L'ho trovato? Non mi ricordo Sto shop Senti Ecco grazie Oh Sacrifica Ti amo Cioè si potrebbe giocare Alta C'è C'è qua In giro No Ma qua c'è la stanza Ma lo shop Non l'ho aperto Ok Andiamo a verlo Certo siamo lentissimi Ma a sto punto ci facciamo una dan for fun Ma questo qua Che fa? Forse fa spawnare sta roba Spossible Non usare più chiavi Se ne facessimo così La mappa Non è male Si forse fa spawnare le Le reroll machine Forse Non so come Vintissimo Può essere Non c'erano batterie in giro No Neanche qua Ma però qua ti posso dare ancora Una moneta E basta Uuuuh The forsaken Sei in stronzo però eh Non si fa sta roba Tanto Tanto C'erano talmente tanti Dammi 24 Stronzo Effettivamente Adesso che ci penso Se io rinuncio a un cuore No Me lo può dare solo randomicamente Forse si Solo randomicamente Grande Questo vuole E' vero che ho rinunciato a dei cuori blu Ma mi sono riempiti i cuori rossi E in più effettivamente Ho preso robe Ok Salve sono Magdalene Magdalene classica E' vero che ci volevamo ancora solo Guarda questa è tosta Buono Perfetto Te li posso killa E a te te chiedo così Perfetto Lì non c'è niente Quindi non ci vado Questo è un campo morto Quindi ci devo andare Perfetto Mi interessa Tanto Tant'è Io Di tutti tantissimo Quindi Distintamente ok merda si cazzuto mi sparo a te ciao ma io lo prendo va bene eh la prendi per il culo è comunque un oggetto speciale quindi adesso come minimo a parte trovare campus 10 a 1 proprio ma come minimo però trovare la partita più o meno iniziale non è neanche pessima come cosa perché a parte che ho 1 e 29 di danno non è bassissimo cioè si non è manco il massimo non è bassissimo perché? perché lui prende il danno lo riduce fino a un tot ma cappa allora facciamo un attimo a sta cosa e ce l'ho carico va bene possiamo andiamo tanto a meno che non trovo caos vai oh bombe dorate ci piace ci piace proprio per quel motivo lì va bene allora facciamo un attimo a tutti 3 cuorini e un po' più di danno abbiamo visto il vedibile mi piacerebbe diventare leviatano eh vabbè stavo dicendo vabbè però se non mi dai via di scampo tu vorresti morire tu anche adesso ho preso qualcosa che aumenta di ceste non comprendo del tutto no ho veramente trovato abbastanza segreto totalmente random ok veloce così non riesco ma qui ci posso entrare giusto ok andiamo di qua no dovevo vedere che cosa c'era cesta prima venito grazie no male liberarsi della stanza merda oh cazzarola cazzarola serve un cuore possiamo fare qualcosa molto meglio molto meglio peccato che anche questo scala oh agonia anche questo scala col danno quindi non ucciderò nessuno col veleno ma vai a fare in culo va sono due ore e mezza che ci combatto non bello ma allora i danni cominciano ad essere ingenti però ok almeno non penso di poter scendere di più ma serio? aspetta eh non ci penso tra un hp up e un hp up che cosa vorrei? vaffanculo no no non ci posso andare giusto ma santo cielo e quanto devi durare però il danno comincia ad essere un fattore vedo qua c'è una tinted in questo caso no va bene per fortuna qua non ci devo più passare almeno quelli guarda i ragni almeno ho trovato la pasta però stiamo esagerando in maniera che tu lo sappi tu vuoi essere non qui ok qua non c'è niente perfetto ma dai niente manco qua questo che dov'è cacchio l'avete infilato mannaggia voi stanza degli oggetti ma questi già c'hanno tanti hp no? poi un campione rosso di questi quanti hp può avere quanto un boss più o meno quanti ce ne sono ancora? sufficientemente per prendere danno perfetto la risposta è chiara ma io non ho preso la mappa ah sì io ho preso la mappa allora perché non vedevo quel pezzo di mappa non ho capito bene non lo so qualcun altro potevo rirrullarlo so compirlo guarda come si muore come morire va bene non c'ho range up eh sì vabbè certo pure io come le pillole tutte le prendo ah ma che sto facendo già l'ho vista adesso per carità è ingente non ce la faccio neanche allora ti piace così tanto scendere? vedo merda è rimasto malissimo è indifferente questo è il piano che voglio saltare questo è il piano che voglio saltare cazzo io ho preso il danno che non dovevo prendere perfetto sono e allora si allora Non credo di essere morto Ma credo mi manchi molto poco Vero? C'è tipo due cuori Se io fossi un boss Dove mi metterei? Nella stanza in fondo A sinistra No, in fondo a destra Allora, qui Tutto è in mano All'Hill Brinston Spero che sia abbastanza chiara la cosa Perfetto Allora, essere più ciccioni è proprio quello Che ho sempre desiderato nella vita Quanto è stronza sta stanza Parecchio Eh, lo sapevo E tanto con un cuore solo non è che C'ho speranze di Ubelleità di qualcosa Tanti cari saluti Merda Ok Sono morto Un malissimo Tipo Eh, sì Forse non è stata una bellissima idea Prendere Alla blind No, forse Più che la blind Il problema grosso In realtà è stato È stato prendere Yves Mascara Cioè, so che rallenta le lacrime Con Soil Milk Speravo lo facesse meno Francamente È una delle sinergie che mi mancava E adesso ho capito che lasciamo perdere Va bene Niente ragazzi Questo è quanto Penso che devi doverci giocare più spesso Perché c'è qualche problema Che non supero neanche il cuore In una partita random È un problema Va bene Ci sentiamo alla prossima ragazzi Ciao a tutti